Bene ragazzi andiamo a vedere Bitcoin, che cosa può fare, in che tipo di situazione ci troviamo e la stessa cosa per Ethereum, quindi al momento dopo essere arrivati a 71.000 dollari, circa quasi 72 anzi abbiamo visto un attimo di rifiuto, io ho voluto segnare questi livelli importantissimi così li guardiamo anche insieme, abbiamo in blu, e sarebbe questo, l'All Time High Weekly Body quindi il primo massimo storico di Bitcoin dove abbiamo raggiunto i 65.000 con chiusura di corpo sul time frame settimanale, quindi 65.000 dollari, un livello che molto probabilmente è iper importante da tenere questa settimana, ma che abbiamo già mantenuto in passato, dopo lo vediamo meglio abbiamo un All Time High Body, quindi a livello di corpo di All Time High per quanto riguarda il time frame giornaliero è stato 67.500 e al momento dove ci stiamo appoggiando ovviamente sull'All Time High di sempre quindi con la week, con l'ombra, quello che ha raggiunto nell'All Time High precedente 69.000 dollari andando a vedere a livello daily abbiamo già avuto delle chiusure sopra l'All Time High Weekly con la week e la stessa cosa ovviamente anche del daily con il corpo quindi andrei a vedere altri day frame per capire effettivamente sul weekly che cos'è che abbiamo fatto una volta, che è stata forse la primissima volta dopo un riassorbimento, prima All Time High riassorbimento, dump importante, quindi interessante questo perché la prima volta che abbiamo fatto l'All Time High è stato qua, l'abbiamo sfondato di un 7%, riassorbito completamente nella settimana successiva meno 12%, dall'All Time High stesso sarebbe stato un meno 17%, quindi molta incertezza è da lì che è iniziato poi tutta la fase di lateralizzazione o quasi di dump, perché cosa succede? solo da questa ombra di dump importante del 17% recuperiamo nella settimana successiva quindi un 18%, torniamo all'All Time High, facciamo per la prima volta, quindi era 25 marzo o comunque fine marzo, facciamo per la prima volta una chiusura weekly sopra all'All Time High ed è lì che diciamo si parte, ed è qui forse che entrano un po' più di speculazioni rialziste sappiamo sempre che bisogna aspettare un'altra chiusura e non andare a razzo però l'altra chiusura c'è un dump ma chiude sopra l'All Time High, quindi sembra interessante sembra una chiusura che a livello di price action, soprattutto con l'ombra che ha fatto potrebbe dire andiamo a razzo, All Time High nuovi e invece da lì in poi, qui già era un dump del 7, da lì in poi consideriamo un più 5 e poi un meno 20 o più su Bitcoin, un meno 22% che è successo nelle settimane successive fino al 29 aprile circa, comunque fino a un mese fa adesso siamo ripartiti, questa settimana chiude a breve e chiuderebbe, se rimanessimo in questa situazione sopra l'All Time High precedente weekly, con la week questa cosa secondo me è molto molto interessante per Bitcoin però si andrebbe a rimangiare un attimo tutto questo che abbiamo visto anche su Daily quindi a livello di resistenza rimarrebbe in piena resistenza a mio parere è importante vedere una chiusura qui sopra potrebbe succedere questa settimana? sì, ma vedendo la situazione vedrei ancora più incertezza e poi prossimamente ne possiamo parlare di vedere questa chiusura qui sopra però un'altra cosa che dovrebbe essere ancora più interessante al giorno d'oggi non è solo una chiusura weekly sopra questo livello ma è una chiusura weekly o daily sopra l'All Time High che ha raggiunto l'All Time High che ha raggiunto a 74 praticamente quindi questo sarà il livello più importante da rompere a mio parere per il prossimo breve futuro di Bitcoin guardando un'altra situazione, quindi passiamo un attimo al mensile quando abbiamo fatto il nuovo All Time High era la prima volta saliamo di time frame, più è importante questa cosa prima candela, febbraio, raggiunge l'All Time High con il corpo non lo sfondiamo con l'ombra, c'è molto interesse a livello successivo al mese dopo sfondiamo la candela di All Time High e chiudiamo col mensile sopra però cos'è che succede? che il mese dopo, che è stato appunto aprile, ce lo rimangiamo completamente quindi non stiamo più in All Time High guardando weekly, guardando daily tutti questi livelli che abbiamo segnato prima e quindi c'è molta più, tra virgolette, paura ma abbiamo già visto recentemente sul canale che è stata una candela perfetta a livello mensile a livello mensile siamo arrivati io stavo guardando sia questo livello, sia questo livello sia quest'altro tratteggiato che sarebbe poi l'All Time High weekly del primo massimo di questo, è a marzo 2021 quindi si è appoggiato perfettamente il mensile quindi è come se stessimo facendo un break break and retest su timeframe mensile quello è molto molto interessante e poi un riassorbimento che stiamo vedendo in questo mese sono candele molto lente perché durano un mese effettivamente e sappiamo già, almeno da storia di Bitcoin che una volta rotto l'All Time High soprattutto con candele mensili, candele importanti poi non andiamo mai sotto per tutta la bull run quindi di conseguenza questa candela che ha chiuso anche un pelo sotto forse l'All Time High di ottobre che viene sempre un po' sbavato perché poi viene visto con i perpetual, tanti lo vedono come doppio top non guardiamo il prezzo singolo certo possiamo guardare l'ombra in questo caso che è completamente diversa dai 61.000 dollari però rimaniamo sulla cifra tonda magari i 60.000 dollari, comunque un target raggiunto per la prima volta da Bitcoin nel ciclo precedente e ora riassorbendo completamente a rialzo questo mese, questa candela andrei a vedere poi una vera strutturazione rialzista non credo di andare a vedere mese dopo mese che continua a fare una situazione del genere quindi giù così tanto, su così tanto, giù così tanto sarebbe assurdo, potrebbe succedere ma credo sia anche un po' il momento poi di strutturarsi più verso il rialzo ti ricordo che in descrizione intanto c'è la Michael Piano Academy dove c'è Crypto Academy questa cosa ancora più interessante per i primi iscritti molto interessante per diventare e dominare il mercato cripto che è il mercato più potente o profittevole della nostra storia o di tutti i tempi quasi facciamo una chiamata conoscitiva delineare i tuoi obiettivi ottimizzare il percorso di apprendimento e tanto tanto altro link in descrizione passiamo al buon Ether al buon Ether che anche lui è in una situazione interessante è rimasto il grafico mensile quindi andrei proprio qui a vederlo questo Fibonacci te lo metto spesso così lo vediamo bene questo Fibonacci è preso dal massimo che ha raggiunto a novembre e dal minimo che ha raggiunto a giugno 2022 dov'è che ci siamo appoggiati? certo è un Fibonacci ribassista dove una volta arrivati al gode del level o comunque 0,78,6 ultimo livello di ritracciamento abbiamo avuto il dump un dump che si è fermato allo 0,5 che va a considerarci una situazione di potenzialmente fine o comunque il 0,5 che funziona come appoggio poi in un Fibonacci ribassista volendoci va a dire ok sai cosa? è il minimo e infatti siamo partiti a razzo questa candela se a livello mensile dovesse chiudere così già sarebbe un bullish engulfing sarebbe un pattern estremamente forte su time frame mensile quindi non andrei più a guardare questi livelli come resistenze certo li guardiamo per che cosa? per capire il massimo precedente è stato in questa zona sicuramente da vedere sui 4.000 dollari come si comporta e solo questa settimana è un pump del 24% sicuramente sono anche situazioni esterne che causano questo non solo la price action il prezzo eccetera ma c'è tutta la narrativa dell'etf ora che potrebbe portare comunque a una corsa molto forte di Ether come c'è stato per Bitcoin una corsa che Ether non ha effettivamente fatto rompere questo livello è stato estremamente importante per Ether una resistenza chiave a mio parere 3.700 rottura daily appoggio daily ripartenza daily se questa cannella daily dovesse chiudere così oggi andrebbe a confermarmi ulteriormente forza per Ether e andrei a targetizzare tranquillamente che cosa? questo livello con un possibile anche longo speculativo breve una cosa del genere molto molto interessante non è un rischio che mi fa impazzire uno e mezzo però questa resistenza mi piacerebbe poi vederla sfondata quindi potrei valutare poi di mettere uno stop in pari o comunque ridurre le mie esposizioni di stop loss prendere un primo target e poi lasciarlo correre per all time I o più sicuramente anche questo ha molto molto senso a livello di all time I tornando un attimo sulla situazione di Ether abbiamo già visto che siamo abbastanza vicini agli all time I recenti e come abbiamo già visto anche di target i livelli soprattutto con l'ETF da raggiungere ci sono perché una volta rotto l'altime I potresti dire chissà dove andiamo abbiamo il buon Fibonacci che ci dà già un'idea quindi Ether dal prezzo attuale al primo target che mi aspetto poi ci sono le cifre psicologiche magari anche 6.000 dollari sono una bella cifra psicologica che è un 50% dei prezzi attuali però Fibonacci solitamente non sbaglia ha trovato i numeri perfetti e quindi un 100% quasi su Ether dai prezzi attuali ce lo possiamo aspettare è molto interessante soprattutto se facciamo qualche trade con leva anche leva bassa una leva per 2 una leva per 3 che andrebbe a posizionarci con degli stop comunque abbastanza conservativi una leva per 3 andiamo a vedere circa un 30% di leva secondo me un 30% di stop loss secondo me è molto interessante perché dovrebbe rimangiarsi tutto questo certo con la non approvazione dell'ETF può avere un po' di dump può avere un po' di scossoni quindi aspetterei magari questi scenari o comunque andrei a rischiare come visto prima nello stop molto più corto quindi qui sotto così non vado a rischiare chissà cosa e essendo uno stop molto corto un 5% posso usare anche una leva un po' più aggressiva e magari meno capitale infatti cos'è che ti voglio ricordare che su Zumex i primi 100 che si registrano ricevono 10 dollari bonus di trading e poi faremo anche dei trade così che puoi utilizzare quel bonus per ottimizzarlo quindi link in descrizione per registrarti i primi 100 bonus di 10 dollari e in teoria ricevi il bonus in 24-48 ore quindi ottimo exchange no che vuoi sì l'unico exchange che rimane no che vuoi sì vediamo se continuerà da quello che so continuerà a rimanere a piede dritto per la questione no che vuoi sì contro i regolatori volendo e vedremo appunto cosa succederà abbiamo già parlato di Zumex parecchie volte e sezione derivati USDT perpetua c'è sempre tutto con anche leva fino a 150 perla grazie per essere stato con me oggi ti ricordo in descrizione ancora la Crypto Academy perché secondo me è la svolta di questa Bullrun e non solo anche per la tua vita perché puoi diventare ricco con le crypto non voglio fare le parole troppo grosse però effettivamente ci sono cose molto interessanti da comprendere noi ci vediamo alla prossima ciao ciao